Per il terzo anno consecutivo la Caritas Diocesana di Fano Fosfomirone Cagli e Pergola organizza un servizio di mensa sostitutiva alla Mensa SOS 2014 per il periodo del 4 al 31 agosto in sostituzione appunto della chiusura della Mensa dell'Opera Padre Pio. Anche quest'anno chiediamo la collaborazione di molti volontari, l'anno scorso abbiamo avuto dei bei gruppi di giovani anche da alcune parrocchie fuori diocesi ma ovviamente quello che ci preme di più è la collaborazione della nostra diocesi, quindi dei giovani delle parrocchie delle nostre diocesi, per aiutarci appunto a organizzare questo servizio di mensa. In che cosa consiste nel dettaglio? Tutti i giorni appunto dal 4 al 31 agosto, domenica compresa, presso il centro d'ascolto della Caritas Diocesana in Viena Alducci 11 aprirà questo servizio di distribuzione cestini dalle ore 12 e 30 alle 13 e 15, questo per le persone che ne usufruiranno. Per i volontari invece il servizio inizierà dalle 11 circa fino alle 14, alle 11 si salirà in cucina per la preparazione dei cestini, alle 12 e 30 si scenderà appunto nella sala d'attesa per la distribuzione, fino alle 13 e 15. Poi sarà necessario un riordino, per poter organizzare al meglio il servizio chiediamo la collaborazione di almeno 4 volontari al giorno e se insomma siete interessati chiamate pure presso la sede della Caritas Diocesana 0721 827351 e ho mandato una mail a info-lacaritasfano.net una giornata, due giornate possono essere sicuramente di aiuto per chi viene alla mensa e ogni anno abbiamo sempre più frequenza.